xd nooo ma io lo so, lo chiamano la polizia no no aiuto, ci sono due mesi vesti che mi vogliono stupare aiuto se non c'è così come se sono forza che tornassimo ci sono due uomini, un italiano oddio mi sono fatta beccata ho paura che devo fare oddio 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 chiamano la polizia un attimo cento tredici cento e quattro cento e quattro ok pronta si per la polizia si aspetta sono entrato io non diventi due potenziali stupadori mi vogliono stupare uccidere uno che fa ho un coltello in mano una coltello in mano ho avuto un pugnale aiuto mi dite subito mi prego oddio oddio che mi hai fatto se sei pazzi eh mi chiedo di chi è i sergente sergente che so sarge sergente si soy italiana ok si si venga venga, venga, ok? Oddio, ma oh, oh, oddio, ho sentito i passi, no, mi devo prendere una cosa armata, oh, mi putto questo qua per faccia, oh, appena lo vedo, oh, oh, oddio, oh, oh, calma, 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 forza, mi devo rilassare perché, sì, oh, basta tutto, forza, basta tutto e poi voglio poter prendere il telefono in mano, a rivelarsi a gente della stessa, magari puoi che lì non si muoce, ma come poter pensare in questi momenti terribili, sono rischiato di essere stuprata, oddio, no, oh, oh, oddio, calma, 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 aiuto, no, no, no,ата mi stavi, oh, no, ma anche, no, 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 aiuto, oh, ma sei carino, no, no, ma può essere bastato, non sa che niente, oh, no, no, ma mi pare che niente, ah, sono arrivato soppiamato la polizia, sta gente piede a te, e magari mi sarà, si, ci spodremmo, mi muoiono, ma chi sto qui c'era, aiuto, aiuto mamma, no, no, bastati, mi ha vinto, guarda, sono in norma, ecco, mi ha fatto il telefono, no, lasciatemi, lasciatemi, ah, oh, 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 oh Oddio. Oddio. Oh mamma. Sono uscita dai ma civilizzata. Sono arrivando. No. Oddio. Non vi avvicinate. Non vi avvicinate. Non vi avvicinate. non mi avvicinate costanti no! no! aiuto! Magatti! Magatti! mi è stata una pugnalata! mi è stata fatemi vedere! mi è stata una pugnalata l'amico! oh! 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 seconda pugnalata! la terza! chiamata l'ambulanza! la polizia! i ragginieri! i ris! no! poi li portavo subito! non sono ancora morta! oh! oh! no! oddio! in che via siamo? in via mama! ah! questo è il terzo di mia fama! oh mio! ma perchè io volevo vedere la mia fama! no! 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 ma non è vero che mi chiamo simonetta no i tuoi 5 ari se guarda per me i nomi romanzo no ok la roba no 1 1 1 non muoio mai chiamate la polizia aiuto aiuto devo chiamare qualcuno mi sento male aiuto aiuto mi ha dato 10 pugnalate oh 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 oh